Anto sta mangiando troppe patatine fritte, ordina sempre tantissime patatine, porta patatine sempre con sé, mangia patatine con tutto, e con tutto intendo proprio tutto, anche con la pasta. Mette le patatine anche nell'anguria. Anto, cosa fai? Mangio le patatine con muffin. Adesso cosa sta facendo? Mette anche la cioccolata sulle patatine. Basta, vinci, ti do la notizia più triste del mondo. Le patatine sono finite. Lasciati un mi piace se dobbiamo ingannare Anto. Anto, smettila di piangere, le ultime rimaste. Non sono vere patatine, non ci sono più patatine per te. Cosa? Iscrivetevi per far diventare queste patatine reali. Patatuna!